Musica Sapete cosa ho imparato? Ho imparato questo, che non posso purtroppo controllare gli altri, l'unica cosa che posso fare è gestire le mie reazioni rispetto agli eventi, perché se io cerco di controllare l'esterno divento frustrata perché comunque non è il mio potere. Quindi la realtà è ciò che è, non è come voglio che io sia, cosa posso fare? Fare il meglio che posso con le risorse che ho, perché altrimenti frego me stessa, perché la mia energia dove va, va ad alimentare ciò che non voglio che sia. Perché più penso a ciò che vorrei e non è, più vado lì. Allora dico bene, la realtà è come è, non è come voglio che sia, cosa posso fare? Come posso fare il meglio che posso, scusate il gioco di parole, con le risorse che ho? E questo serve ad alleggerire. Alleggeriamo. Posso solo alleggerire le mie sensazioni, ok? Posso controllare l'esterno, no, posso controllare però o gestire o alleggerire, scegliete voi il termine che vi è più congeniale, le reazioni che io ho verso quell'evento e quell'episodio. Perché vi faccio vedere un filmato adesso. Ed è un minuto di cartone animato su Ray Leone. Ascoltate più cose, prima ve lo faccio vedere tutto, perché a volte quando io lo faccio vedere lo commento già, influenzo già, invece il modo migliore per insegnare qualcosa a qualcuno è, prima far vedere fa sì che la persona colga le sue sensazioni e impressioni, poi commentarglielo. Perché così nel commentarglielo la persona cosa fa? Dice, ah guarda che quella cosa non ci avevo fatto caso, oppure, ah guarda che quella cosa che è importante era importante anche per me. Quindi, rappresentate meglio le cose, vai. E quello che cos'era? Il tempo, davvero inconsueto, non ti sembra? Già, sembra che il vento stia cambiando. Ah, i cambiamenti sono positivi. Sì, ma non è facile. So quello che devo fare, ma tornare significa affrontare il mio passato. Sto scappando da troppo tempo. Sì, ma non è facile. Ma non è. Già il ma, il ma è mai usato, è versativo, eh. Esbitate il ma, vi prego. Nella comunicazione. Chiamo tanto ma... Ah, che male, perché mi hai colpito? Non ha importanza, ormai è passato. Sì, ma continua a fare male. Oh sì, il passato può fare male. Ma a mio modo di vedere, dal passato puoi scappare, oppure imparare qualcosa. Ah, hai visto? Allora, che cosa decidi? Per prima cosa, prenderò il tuo bastone. No, 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 il bastone no! Ehi, dove stai andando? Sto tornando a casa! L'insegnamento cos'è? Dal passato posso scappare, più scappo più di energia, o posso imparare. È successo, posso controllare ciò che è successo, no. Posso solo gestire al meglio la reazione che ho, di quello che mi è successo. La reazione che ho, di quello che mi è successo.